Era già sottoposto agli arresti domiciliari per aver commesso un furto, ma questo non gli ha impedito di continuare a dedicarsi alle attività illecite, occupandosi comodamente da casa della vendita di droga. Così è finito in carcere un 44enne pregiudicato di casa massima nella provincia di Bari, arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad attirare l'attenzione dei militari è stato il sospetto via vai di persone proveniente dall'abitazione dell'uomo. Così hanno deciso di vederci chiaro procedendo ad una curata perquisizione domiciliare, ed i risultati non si sono fatti attendere. L'appartamento era stato trasformato infatti in una vera e propria base logistica per il confezionamento e la vendita di droga. Il padrone di casa aveva nascosto nel doppio fondo ricavato nell'armadio della camera da letto un assortimento di sostanze stupefacenti, in particolare eroina e marihuana per 50 grammi complessivi. Alla ricerca di posti sempre nuovi per nascondere le dosi, il 44enne si era anche ingegnato modificando una lattina di birra, apparentemente integra, ma che in realtà poteva essere aperta semplicemente svitando la parte superiore. Assieme alla droga i carabinieri hanno sequestrato anche quattro bilancini di precisione, materiale per il taglio del confezionamento ed oltre 700 euro in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell'attività illecita. Per l'uomo invece si sono aperte le porte del carcere di Bari.